signori e qui siamo un pochino nella cacca perché il Bosch tra panino e puzza ci ha abbandonato ora lo sto un pochino ghiacciando ora fra poco si riprova se si dà una voltarella e sono 1346 spire da avvolgimento su uno sviluppo di 700 mm ogni spira è 0,52 la spira questa è l'induttanza prima l'induttanza secondaria della bobina di Tesla ora si prova a attaccare il trapano vediamo un po' se si è un po' freddato perché c'era il Bosch che è bello nuovo col trapano si va decisamente meglio perché si va si va un po' meglio siamo pronti sei pronto vado aspetta aspetta che mi cina ecco questa è una velocità normale per fare l'avvolgimento uno si brucia anche un po' le dita si utilizza guanti e niente ormai questa è la terza bobina che facciamo ora a fine che non puzza il trapano si va si va elettrico è un bel amolino passatempo per bruciarsi le mani passatempo per bruciarsi le mani qui abbiamo anche il canale 5 che è il gran ducato che ci sta riprendendo sempre c'è un bello dolino di pioccante del trapano lo senti a me il cameraman si 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 prima ci sia l'etna aspetta un attimo Luca bisogna stand by un attimo reggi bisogna farlo ghiacciare perché se no prende il formatore è andata un po' in a mano allora mettiamolo in terra resta qui c'è anche il canile di titignano ci sono cani vitti andiamo un pochino a mano andiamo un pochino a mano allora aspetta aspetta riuniamo l'aspira andiamo un pochino a mano come quando si va con le donne si va a mano non si va a mano è come farsi le seghe maiale ragazzi di sinistra qui si va ora ecco ma stai prendendo una piega buona tipo quarche e la fai la sega ci voleva le seghe le segano il legno le segano tutto anche il tubo che si è segato con la sega Luca non dici nulla via allora te per ora stoppa tutto stoppa il cameraman ha messo